ce la posso farcela in ritardo di qualche minuto ma che taggia lì che taggia fa l'importante è arrivare ora tanto che spaccio un attimo come al solito la live in giro per i social e poi arrivo giuro che arrivo mannaia tutto di corsa allora i gruppi gruppo del nido del corvo elite arrivo mi manca solo da spacciarla nei gruppi e poi ci sono devo aprire la pc se non vedo una pipa allora ciao anna buonasera olga buonasera fantasmi magia libri occulta me ne manca uno solo arrivo dispaccio per i gruppi andrei buonasera fantasmi paranormali misteri esoterismo eccolo ho spacciato la live come fossero coriandoli a carnevale ora vedo se riesco ad aprire anche da pc oh magicamente si è aprito anche lady ghost lady sadaco lady nastrino salutano live sto scoppiata non ce la posso farcela mannaggia gennaio mannaggia la burocrazia mannaggia le cose da fare da finire da finire da non ce la faccio più sembro magda con furio solo che io non ce l'ho furio che rompe le scatole e l'esistenza del mese di giano che mi rompe le scatole i miei petardi oggi sembro più leccata da una mucca ma davvero sono indecente mi rendo conto di essere indecente quando le amiche qua sul web mi dicono ma non ti trucchi mai ma non riesco nemmeno a togliermi le sopracciglia e i baffi che sembrano gengis gun un guerriero mongolo che ce l'ho qua non ho proprio il tempo materiale nemmeno di vedere che faccia ho ancora ogni tanto per ricordarmi che faccia ho devo guardare la carta d'identità odio la burocrazia ciao a Nubia buonasera Maria Antonietta odio la burocrazia odio gli uffici odio dover interagire per forza di persona con le cose stefi buonasera federica grazie buonasera siamo nel 2023 ci dovrebbe essere il tastino sulla tastiera che tu lo clicchi e ti prepara anche l'arrosto e le lasagne senza muoverti dalla scrivania Francesca buonasera e invece niente ti tocca ancora andare a zonzo per uffici cose Dania buonasera non ce la posso farcela finché reggo ci sono quando non mi vedete più mi sono addormentata porcaccia questa settimana e la prossima tutte insieme le ho tutte ormai cinzia buonasera ormai invece che anche oggi si dorme domani sto mese devo dire anche questo gennaio si dorme febbraio perché mi sa tanto che rimarrò leggermente intoppata allora donzelle donzelli siamo già 22 Cristina buonasera e stasera ho fatto quei dieci minuti di ritardo perché ero un po' incasinata col finire la cena e venire su di sopra Solange buonasera Silvia buonasera Silvia buonasera perché adesso il pc ce l'ho su dalla stanza dell'altare che sta su al terzo piano la cucina sta al primo Giovanni buonasera e quindi anche venire su per me devo prenderla con molta calma ciao Anto eccole lì le tre led in fila Linda buonasera io poi che sono una che buonasera Cassandra sono instancabile nelle cose che devo fare ma per contrappeso sono stancabilissima quando mi devo muovere fisicamente io ero quella che a 12 anni si è esonerata da ginnastica perché odiavo muovermi riguardavo i tuoi video e mi chiedevo quando te vedi in reali i defunti loro sono nella nostra dimensione perché hanno tanta energia e quindi non si rincarnano beh tutti i defunti se sono ancora nello stato spiritico è perché hanno ancora dell'energia non è che ne hanno tanta però hanno ancora dell'energia e non hanno la necessità di reincarnarsi esatto Adam buonasera stasera vi acchiappo tutti o la 31 il lavender monday il lunedì della lavanda what is this se hai qualcosa con la lavanda a me va bene sempre io sono lavanda dipendente io posso fare 18 lavori in contemporanea al pc alla scrivania se devo andare in un posto per andare a lavorare vado senza problemi ma il dover andare di qua di là di su di giù interagire con gli uffici con gli impiegati per me è un inferno proprio Sveva ma serve a dire riposo in pace quando muore qualcuno no però è un'usanza buonasera 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 in teoria oggi è il blue monday quindi lunedì triste io non ne so niente di queste cose perché maria grazie buonasera ciao Sveva una curiosità ma quando vedi dei funti in real perché quando metti a volte qualche foto sono immagini di energia fumo non so se mi sono spiegata sai perché di solito di energia il fumo è un altro discorso sono entità che girano intorno a certi incensi e quindi il fumo dell'incenso li evidenzia è un'altra cosa invece quando le metto che normalmente poi sono più immagini energetiche per la questione che io li vedo ma il telefonino no beh purtroppo però a volte sono talmente energetici che comunque sapendo dove scattare un po' il loro alone riesco a beccarlo ma sai quanti ne vede quando scatto non becco niente allora no perché oggi sarebbe il blue monday no sì no ma io non ho ancora capito cos'è sto lunedì triste il lunedì è sempre triste a prescindere è lunedì io auguro come mi piace alla gente che vada dall'altra parte che non sia più corretto alla fine è uguale ciao Erika ciao Anna buonasera io normalmente dico solo ciao ma io sono un caso strano io non riesco nemmeno a dire a una persona quando gli è mancato qualcuno condoglianze io la parola condoglianze non riesco a dirla nel caso in cui mi trovo faccia a faccia con chi ha perso qualcuno l'unica cosa che gli dico sempre è mi dispiace per voi mi dispiace per te ma condoglianze non riesco manco a dirlo e sì infatti Anna mi lunedì è sempre triste a prescindere prego Olga il lunedì è il giorno più traumatico della settimana Mari ciao buonasera i nomi della Genesa quando le batteggi da dove arrivano normalmente arrivano da lei che te li manda per input ciao Pina ti arrivano proprio nella mente come se qualcuno te li dicesse a volte ti arrivano anche in altri modi anche più concreti proprio anche io non riesco a dirle infatti non so perché ma non sono mai riuscita a dire condoglianze boh ma sì un'americanata perché uno si rende conto che sono finite le feste che col lavoro che faccio per me è un sospiro di soldi io quello che faccio in generale che sia lavoro che siano studio che siano cose di normale amministrazione per quanto riguarda il mio tipo di esistenza le faccio di lunedì, di martedì, di natale, di pasqua nei giorni del ramadam nella festa di primavera cinese non le vedo proprio io le differenze ciao Carolina buonasera nel senso da dove arriva proprio il nome tipo antenati, vite precedenti, che ne so dalla Genesa o dalla Pentasfera stessa alcuni oggetti hanno la loro anima ragionante e pensante la Pentasfera e la Genesa normalmente hanno una loro anima se appare la madre che lei le costruisce ad Ida te lo faccio spiegare meglio Ilaria buonasera maestra di Zumba ho letto che quando si usa la tavola è vero che bisogna chiamare le guide dai partecipanti perché fanno da protettori in quanto possono presentarsi entità di qualsiasi genere guarda Anna Maria io ho comprato la guia l'ho usata in tutti i modi possibili e immaginabili da sola in compagnia lasciandola abbandonata col dito sopra senza dito sopra con la catena insieme a una maggiorenne e a un minorenne solo col minorenne solo con la maggiorenne con il gatto vicino con il gatto lontano la guia non serve assolutamente a una mazza sono tutte leggende metropolitane te lo posso garantire pure un defunto è passato davanti a me mentre tentavo di farla funzionare mi ha guardato proprio con la faccia patita come per dire devo capire se sei cretina o se sei scema e poi se n'è andato ciao Samuela buonasera Francesca pure io ho sempre fatto fatica a dire con doglianza è una parola che non è spontanea infatti è quello non fa più parte del nostro linguaggio sarebbe come dire ossegui al capo cioè neanche se sono ubriaca e pensa che te va pure bene in Sicilia tanti anni fa per osseguiare qualcuno si diceva sa benedica ci come Cinzia buonasera ciao Chiara Sabri buonasera io faccio certe figuracce ma che poi io non ho mai capito una cosa a prescindere dal fatto che non riesco io a dire la parola condoglianze e va bene ci sono persone che appunto non riescono io preferisco dire mi dispiace per te mi dispiace per voi ho saputo e basta finisce lì ma noto che c'è gente che scrive e dice anche a voce condoglianze vivissime perché? why? con 15 punti interrogativi sulla testa perché condoglianze vivissime mi pare un ruboro eppure boh buonasera Pinuccia io una volta ho detto auguri oh che se poi l'eredità è anche abbastanza elevata magari gli auguri sono più azzeccati vedete che salto tutti ciao Elena buonasera come fosse uno simbolo appunto Erika eccola la madre chiedete a lei perché arriva e come arriva il nome della genese della pentasfera vai madre spiegaglielo svevino buonasera tra dieci minuti e poi ti metto le corna con un libro infernale ma non si fanno queste cose anzi no si si fanno perché per un libro metto le corna a qualsiasi cosa c'hai anche ragione bella buonasera oh mamma io ho regalato un portafortuna al parente prossimo appena seppellito il defunto però anche io ero piccola diglielo vai madre aspetta che sto spegnendo il pc e togliendo le cuffie ma non l'avevi già spento prima l'hai riacceso stavi continuando ad analizzare il mio video tu non li vedi ma io ho gli occhi a cuoricino come gli emoji ori buonasera mariangela buonasera anche io e mio marito non diciamo con l'ansia a volte è meglio il silenzio è uno sguardo un abbraccio come anche toccare o baciare il morto proprio non ce la faccio beh io lì ce lo dipende cioè nel senso che non vado a sbaciucchiare morti in giro ma c'è la situazione nella quale hai voglia ancora di dare un abbraccio un bacio e via dicendo quindi lì dipende da chi è la salma a prescindere se no se no normalmente non saltendo da una tomba all'altra sbaciucchiandoli quello neanche io Cristina buonasera Antonella buonasera la madre mi fa le faccine che ridono ma lo sa che io ho gli occhi a cuoricino quando lei analizza i miei video perché io sento una fama e mezza ma rimba a toccarlo mai non è vero dipende guarda dipende tutto da chi era l'altro giorno ho visto i tuoi video su youtube molto interessanti ho visto i tuoi capelli blu sì sì ma li rifarò non appena avrò il tempo materiale guardate sono conciata in una maniera indecente altro che non sono una signora sono un watercluse della vita watercluse vc cioè cesso perché non ho il tempo esatto Mari dipende tanto da chi è serena buonasera mi piacciono tanti i capelli blu ma torneranno non appena ho verso febbraio mettiamola così forse riuscirò a sistemarli una curiosità cosa è con la bambolina bianca appesa dietro di te è Lady Sadako è una bambolina che ha creato una mia amica e rappresenta il film Ringu il film The Ring Sadako o Samara che dir si voglia la versione americana si chiama Samara la versione giapponese originale perché gli americani sanno solo scopiazzare si chiama Ringu e quella è Sadako la ragazza con i capelli lunghi neri che esce dal pozzo tanto per capirci se eravamo vicini te li facevo io ma sai fra che io me li sono sempre fatti da sola io ho fatto la parrucchiera alcuni anni quando ero ragazzina cos'è che non ho fatto li ho fatti tutti i lavori tranne forse il politico poi li ho fatti tutti buonasera Manu e me li sono sempre fatti da sola ma ultimamente non ho né tempo e soprattutto le mie spalle non reggono più non ce la faccio più a darla e quindi ci ho rinunciato brutalmente non mi fa effetto non dipende da chi è il depunto chi è la dama bianca ma Antonella ce ne sono tante di dame bianche c'è la dama bianca di Roma c'è la dama bianca di Treviso c'è la dama bianca del Trastevere in generale col termine dama bianca nelle nelle varie leggende sugli spiriti è sempre qualche donna che è morta violentemente normalmente intorno al medioevo o fine del 1800 o è morta annegata o è stata uccisa o è stata imprigionata o è morta in prigione le chiamano tutte dama bianca non c'è un'unica dama bianca è la dama bianca di quel posto sono curiosa ma le foto che hai dietro di te chi sono? tutti i miei defunti lì ciò io uso quell'altare principalmente per le onoranze ai miei defunti persone legate a me in questa vita e lì ci sono le foto di tutti i miei defunti poi qualche foto anche di alcuni defunti a cui teneva mio figlio e i defunti di mio marito perché ho fatto tutta la parete con i defunti e quindi ho messo anche i loro e lì di solito brucio incenso per i defunti consegno candele faccio l'altare de los dias de los muertos nel periodo tra la fine di ottobre e la fine di novembre e via dicendo allora aspetta che sono salita mi sale da sola mi piace molto come hai sistemato la stanza e ho dovuto perché giù di sotto mi deve arrivare la cameretta e quindi ho dovuto portare tutto su ma l'altare c'era già ho solo dovuto spostare divani poltrone per farci incastrare il pc e via dicendo perché sennò qua c'era già l'altare questa è la mansarda dove io facevo già prima le mie pratiche io conosco solo il grande Luca Bianco quello conosco anch'io bene buonasera Alessia allora non è vero che non bisogna tenere foto dei morti a vista ma assolutamente no anzi gli fai un favore se li tieni perché ogni volta che le guardi gli mandi un po' di energia una domanda la tavola comunque è sempre un mezzo per comunicare con il pendolo o sbaglio il pendolo è un'altra cosa certo Dania il pendolo sulla tavola letteraria lo puoi usare però non è la guia la vera tavola per il pendolo è quella rotonda che c'ha l'alfabeto in cerchio c'ha nord sud est o ovest si no e altre tracciature è simile alla guia ma non è la guia adesso ti racconto cosa mi è successo l'altro giorno così mi dai il tuo parere vai stai là la dama bianca era l'amante di Fausto Coppi anche tra l'altro sì meno male guarda Sere è proprio l'ideale la classica soffitta dalla strega Anna buonasera oh la 58 stiamo sfuorando stasera a proposito di pendolo ho riprovato a usarlo 5 minuti e nulla notte in bianco di nuovo ma il pendolo va anche a momenti va anche a energie personali va anche a come siamo messi noi psicofisicamente perché il pendolo reagisce alle nostre vibrazioni quindi a volte sente anche se abbiamo la possibilità di consumare energie su di lui o se invece è meglio che non ce le sottragga chiara buonasera claudia buonasera ciao silvia grazie io invece lavoro in casa di riposo e quando muore un mio paziente lo accarezzo e lo saluto sempre non mi fa effetto si neanche a me mi fa effetto quello no la soffitta delle sorelle Halliwell si chiamano comunque si il potere del trio coincide con il mio ma io se da sola non siamo un trio però fa lo stesso ok comunque faccio per tre quindi volendo guarda ci stanno tutte pru fibi e piper se mi impegno ci sta pure la quarta page aspetta che me perdo buonasera margherita perché non dormo se lo uso perché probabilmente ti sbilancia un po' le energie o te le assorbe o te le rimanda indietro e ti dà la botta energetica e quindi te svegli le attrezzature lo fanno a volte soprattutto se abbiamo qualche sbilanciamento nei chakra energetico ce la canti la signora del cartone animato Renzi la strega simpatica e carina è una bambolina oh Renzi bello non si direbbe in giro con papà vampiro la so tutta eh me vuoi sfidà fino all'anno 2000 io le canzoni le so tutte dal 2000 in poi non le ho più ascoltate ad eccezione di un paio proprio io una vetina piena di foto dei miei effunti con incensi ceri eccetera esatto sere io ho proprio l'altare ce li ho tutti appesi e lì accendo candede incensi e altre cose anche io vivo in mansarda al terzo piano a tetto la mia gatta menù spesso guarda in punti del muro dove non c'è oggetti sicuramente vede qualche entità facile io ho salcicia che si incavola come una iena perché a volte dorme lo svegliano lo disturbano allora li guarda tutti incarognito oppure gli fa perché li vuol menare è partita la segretaria no dopo te la mando tutta per intero con la corale registrata dietro sempre la mia voce in privato così impari a non volermi sentir cantare e anche alla madre è così perché quando sento dire di no mi viene in mente pure lei a prescindere è vero che non sai per usare il pendolo si attirano energie negative no Francesca nessuno attira energie negative utilizzando delle attrezzature se sei in grado sai utilizzare le tue energie su quell'attrezzo e le sai usare funziona se non lo sai usare al massimo non funziona non ci sono controindicazioni in ritorno un amico mi aveva detto che per il pendolo bisogna sempre chiedere come diciamo prima domanda se posso usarlo beh sì essendo che le pietre i pendoli quelli con la pietra i pendoli quelli metallici no quelli con la pietra è sempre bene rapportarcisi come se fossero una persona perché la pietra ha la sua anima e quindi sì chiedergli guarda dovrei usarti ora comincio a usarti posso utilizzarti è sempre una forma di rispetto più che altro verso la pietra in sé del pendolo ciao Angie l'ascolto mentre raccordo raccolgo i ricci l'apnea io li sogno dalle età di 13 anni all'inizio non capivo ora fanno parte di me aspetta coparci il filo io li amo e mi mancano quando non li percepisco durante il giorno perché ormai ci sei abituata Margherita è normale quando una cosa diventa abitudine diventa routine quindi quando manca in realtà sentiamo proprio la mancanza sei troppo simpatica e solare che segno sei dell'oseria con io bilancia ma guarda Mariangelo io sono acquario non lo so se sono solare cerco di prendere sempre tutto con molta 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 filosofia sì e li schiacci col culo ma no perché la mando a raccogliere i ricci in apnea e non le pago lo straordinario quando mi scredita le canzoncine è vero che quando devi purificare oggetti con il paro santo vedete che ti ho perso bisogna andare in senso orario ma per la purificazione diciamo che sì in senso orario crea il circolo di allontanamento delle energie che tira via quindi decisamente ha più utilità ma anche farlo passare in versione dritta quindi io faccio sempre così perché sono una marmotta accendi il paro santo il fumo vai in su prendi l'oggetto ce lo fai passare bene sopra e buonanotte al secchio la negatività se ne vai in su è la stessa cosa non è che cambia tantissimo la situazione con i giri e i controgiri allora ti racconto giovedì 12 pomeriggio sono entrato in un negozio e casualmente ho visto delle ametiste burattate e ne ho comprata una piccolina aiuto arrivata a casa l'ho sciacquata sotto l'acqua e purificata col palo santo poi l'ho poggiata sul comodino e via mi addormento durante la notte sogno mio zio morto sfisci il 12 ottobre proprio tre mesi esatti esatti dalla sua morte era la prima volta che lo sognavo dopo la sua morte ci siamo parlati gli ho chiesto anche perché ha fatto questo gesto e mi ha risposto di stare zitta e mi sorrideva nel sogno non sentivo la sua voce ma solo leggevo il suo labiale ora la mia domanda o meglio le domande sono queste ho fatto un sogno lucido vero è stata l'ametista a metterci in contatto dimmi che ne pensi allora Stella hai fatto sicuramente un sogno lucido se avevi la capacità di sapere che stavi sognando dentro al sogno che risveglia e via dicendo che tuo zio appunto era morto ma quello si perché se gli hai chiesto perché l'ha fatto vuol dire che sapevi che era morto e quindi è facile che sia un sogno lucido l'ametista è un energizzante vibrazionale e aiuta tantissimo più che altro a ricordare i sogni che si fanno quindi io direi che in qualche modo magari tuo zio voleva già contattarti o magari ti aveva già anche contattato ma tu non lo ricordavi perché molte volte non ricordiamo né sogni normali né sogni lucidi quando ci svegliamo al mattino e l'ametista ha fatto in modo intanto che le vibrazioni intorno a te si adattassero meglio anche a questo tipo di esperienza energizzandola e sistemandola al meglio perché l'ametista proprio ridisloca le vibrazioni e le energizza e in più ti ha dato l'aiuto per ricordare meglio quello che tu hai sognato quindi in parte merito colpa sua acquario e ascendente bilancia è vero da secretaria ad astrologa è un attimo ma un attimo proprio segno zodiacale riccio azzi ti ho ribeccata internet vale viz è una questione di linea perché a me non è caduta qua giuro giuro in giuretta non mi è caduta strano ma vero sad guru in un video dice lascia i morti ai morti si l'ho visto gironzola in questi giorni quel video ne dice tante sad guru a me piace molto come persona sad guru e sulla spiritualità sa tanto quello che dal suo punto di vista è è che secondo lui i vivi non dovrebbero pensare troppo ai morti perché tanto di là ci torniamo tutti non è che ha torto allora è un discorso complesso sad guru è un guru e quindi è estremamente spirituale ma una persona spirituale non ha più certe cognizioni umane tra virgolette non non dà più importanza a certe emozioni che possono buttarlo a terra una persona che entra nella spiritualità vera e costante e pratica costantemente la spiritualità vive nella spiritualità come un sad guru non ha più interessi non ha più l'attaccamento alle emozioni come possono essere la mancanza la nostalgia il dolore e via dicendo e quindi il suo consiglio da guru è quello di lasciare andare tutto ciò che ormai tanto in qualche modo non c'è più che non sarebbe neanche un brutto consiglio e di concentrarsi invece su ciò che ancora in queste vite terrene abbiamo ma i guru fanno in modo cioè cercano di spiegare come vivere al meglio le nostre vite terrene dal mio punto di vista io cerco sempre di aiutare i defunti di lama perché io sono legata a loro mentre invece un guru è più legato e quindi cerca maggiormente di non so come spiegarlo cerca di farvi vivere bene nelle vite terrene e basta cercando di togliervi tutto quello che vi può incatenare i pensieri non dice cose sbagliate ma è come dire come te lo posso spiegare se ci sono il cane e il gatto e nella stessa casa bisticciano tu puoi cercare di alleviare entrambi mettendoli in una situazione comoda tutti e due ma puoi anche essere solo pro gatti e quindi il cane lo chiudi con la catena in giardino mentre invece il gatto è libero per casa e prende le coccole o al contrario essere solo pro cane il gatto lo chiudi nel cesso con la sabietta e la ciotola e il cane vive felice in giro per casa ecco tanto per fare un raffronto dipende anche che cosa stai cercando di insegnare a chi e per quale motivo però nella sua totalità per il suo modo di vedere la vita terrena non dice cose sbagliate prego Ginzia buonasera autun eccomi spento tutto e attaccata al cielo a ricciao madre non ti addormenta però prima ho cantato Renzi la strega e tu non c'eri non si fa non sta bene ho bruciato ogni palo santo in tutte le stanze poi ho aperto tutto ho fatto giusto perfetto è così che si fa si brucia bene in tutte le stanze si passa il fumo in tutte le stanze e alla fine si aprono tutte le finestre e si fa uscire tutta la pulizia che è stata fatta esattamente e si fra ce l'ho detto ora ma io leggo dopo perché c'è una marea acquario anche io 29 gennaio io pure 29 gennaio precisa proprio io 1975 sono anziana tu ho riso molto per segno riccio santo diventerà più famoso del del tredicesimo segno zodiacale che era che era com'è che si chiama il tredicesimo segno uh me sfugge ho anche visto un drama carinissimo che si chiamava come lui porco cane non mi ricordo il nome e ho la memoria che va a cacca a cacca e cetrioli alternati ciao luana che non vanno cercati sempre assolutamente erica in effetti non vanno cercati non vanno lo dico sempre anche io quello non vanno cercati cioè fatti sentire fatti vedere uh come mi manchi uh come son triste fatti vedere fatti sentire perché a quelle gli fate del male non gli date una mano chiedere di venire non è un bel gesto per i defunti gli state facendo una carognata e lì ha ragione due volte anche per i defunti anche io ti avevo persa per via di internet ma poi a volte ritorno ora sembro adolf hitler però mi è venuto il ciuffo leccato da un lato però io i baffi ce li ho qua quindi sono il figlio di adolf hitler con gengis khan che è diverso e con la linea di obelix così tanto per buonasera clarissa grazie come sempre le spiegazioni impeccabili devo essere sincera io ricordo sempre i sogni di un certo tipo anche dopo anni in questo sogno ero consapevolissima di star sognando e mi sono svegliata felice di aver visto mio zio volevo sapere ma la metista va ricaricata o solo purificata tecnicamente non andrebbe né caricata né purificata perché è autopulente e autoricaricante però la purificazione ogni tanto gliela puoi anche fare magari si ha lavorato tanto di modo che la fai riposare un attimo non serve caricarla perché appunto anzi la metista ricarica le altre pietre è un autoricaricante naturale dopo quanto tempo dalla morte può avvenire la reincarnazione non so perché mi attirano foto e immagini anni 50-60 quando le vedo mi danno un senso di pace di là il tempo non esiste Carolina è tutta un'altra questione noi di solito veniamo a reincarnarci o perché abbiamo qualche cosa che vogliamo assolutamente tornare perché anche di là a volte siamo un po' capocce dure non è che siamo proprio tutti fricchi fricchi gioè gioè e nel 90% dei casi invece solo quando ci finisce l'energia in base ai ricordi che avevamo seminato quando eravamo in vita negli altri quindi può succedere dopo un anno può succedere dopo cento può succedere dopo mille c'è gente che tipo Cheope tipo Tutankhamon sono 3.000 4.000 5.000 anni e probabilmente non si sono ancora reincarnati perché ne parlano ancora tutti li pensano ancora tutti quindi non hanno la necessità di reincarnarsi non c'è una regola di tempo ricordatevi che di là le regole non esistono le regole se le inventano gli uomini di qua e sono meramente inventate anche le regole basilari le regole stupide con le quali nasciamo e cresciamo si mangia a mezzogiorno si mangia alle 7 perché se io ho fame alle 4 del pomeriggio mi faccio una carbonara alle 4 del pomeriggio io mangio alle 4 del pomeriggio perché devo mangiare a mezzogiorno perché magari non ho fame ecco gli animali lì sono più intelligenti di noi gli animali mangiano quando hanno fame e dormono quando hanno sonno punto non stanno a guardare giorno, notte, mattina, sera orari contro orari ma sentivo anche se non guardavo quindi hai sentito il mio pezzettino di performance dopo ti manderò l'intero testo per farti felice come anche a Francesca così mentre raccoglie i ricci mi ascolta comunque te sei troppo indispensabile mi dispiace e mi prende il nervoso il fatto che ti ho incontrata per puro caso ti prego non smettere mai di esserci per noi e di fare video e scrivere libri ma guarda l'idea era quella se non mi rivolgero dall'altra parte per ora continuo comunque grazie vede davvero io scarzo sempre lo sai che faccio sempre battute su tutto sei giovanissima io sono del 68 vabbè io del 75 siamo lì non è che quelli del 68 erano nella mia compagnia non è che cambiavate tanto che la canti in nuovo Renzi la strega la guardavo ma ero piccola la ricordo vagamente vedete che la vogliono tutti che io la canto la canzoncina siete solo voi due la secretaria e la madre che non comprendete le mie doti a canore sapevatelo dopo giuro che te la canto Anto intera io più vei c'è la 65 e vabbè dieci anni di differenza comunque appunto in compagnia mia più o meno ce ne erano tanti anche della tua la generazione è la stessa mancale poco madre illuminaci di mezzo e di sapienza eccola Dania grazie o fiucco non mi veniva e ho visto pure un drama da poco che mi è piaciuto da poco sarà un anno che l'ho visto dove c'è la bravissima Zao Lusi che io adoro come attrice che appunto era il tredicesimo segno dello fiucco ma non mi ricordavo lo fiucco grazie Franca a te ecco un'altra Cinzia ok lo fiucco grazie ragazze mo mo lo scrivo mi faccio il murales qua lo fiucco perché se no mo lo scordo un'altra volta anch'io 13 febbraio mio figlio 25 gennaio tutti acquario tutti acquario grazie amori sì anche tu me lo dicevi io non lo so io sono così ma io sono così anche in real chi mi ha conosciuto di persona lo sa non è che sono diversa io sto zitta che è meglio sono la nonna zitta che tu madre hai fatto un patto con qualcuno perché non è possibile sembri tu figlia mia io 81 ma ricordo un po' e sì i Renzi l'hanno rifatta ancora fino all'86 87 ancora la ridavano io poi sono sempre stata anime dipendente perché essendo innamorata del Giappone anche da bambina anche appena nata tutto ciò che era giapponese era mio a prescindere la pulizia degli ambienti si può fare solo con palo santo oppure anche in altri modi mia nonna che ormai non c'è più mi disse che si mette del sale nel perimetro della casa forse è una cosa antica allora no circondare tutta la casa no col sale perché puoi bloccare anche delle entità o delle energie all'interno il sale serve come scudo per la casa però devi fare dei sacchettini o delle montagnette ma meglio dei sacchettini e puoi metterne alcuni negli angoli della casa quello sì che vanno in senso angolare ma non circondare tutta la casa per la pulizia energetica della casa c'è il palo santo la salvia bianca anche il rosmarino bruciato ma meno è molto più leggero rispetto al palo santo e alla salvia bianca la candela nera in notte di luna calante lasciandola consumare fino alla fine si può utilizzare anche acqua e olio di palo santo proprio con uno spruzzino di quelli normali la spiaggia e ogni tanto irrorare oppure mettere due o tre gocce di olio di palo santo o di salvia bianca all'interno degli umidificatori dei caloriferi è tutta roba che comunque ripulisce anche chiedere aiuto a loro non va bene e beh no cioè chiedergli di fare qualsiasi cosa non va mai bene Cassandra a parte che loro non possono aiutarti non sono magici non è che se tu hai un problema loro te lo possono risolvere loro possono anche starti tra virgolette vicino ma soltanto a livello vibrazionale emozionale cioè ti possono dare la pacca sulla spalla e dirti mi dispiace però non è che possono risolverti un problema ma se loro sono vicino a te se loro sono legati a te ti vedono disperata che li invochi e loro non possono comunque fare nulla consumano un sacco di energie nei vari tentativi e non riescono nemmeno e rischiano di consumarne troppo e di doversi reincarnare prima quindi poi non ce le manco più vicini perché se ne sono andati perché se no morivano cioè si estinguevano se non andavano a reincarnarsi quindi non vale la pena fargli consumare energie le energie noi le dobbiamo dare non fargliele consumare per noi quello è egoismo e non è voler bene perché quando una persona vuole bene cerca cerca di far star meglio la persona che ama non cerca di stare meglio lui grazie alla persona che ama che questa persona sia vive o che questa persona sia morta indifferentemente si lo fiucco ma lo sono ricordato dopo come l'hanno scritto le ragasse mia madre deve essere operata mercoledì cosa mi consigli per agevolare la guarigione post intervento allora agevolare la guarigione qualcosa aiuta per esempio le pietre di avventurina tenute a contatto con la pelle la malachite la mazzonite in generale tutte le pietre verdi sono abbastanza di allagiada sono abbastanza di aiuto per la salute per un'ottima ripresa poi anche le candele le candele verdi accese appunto con lo scopo di richiesta all'universo di una ripresa salutare migliore aiutano sarebbe anche meglio mettere vicino alla candela verde un po' di zucchero non il cerchio chiusi i cerchi chiusi non li fate mai che è meglio a prescindere ma una montagnetta una cucchiaiata un mezzo cerchietto o di zucchero o di miele comunque di qualcosa di appiccicoso e dolce perché attira le energie verso la candela e quindi la candela si energizza maggiormente quello anche aiuta ciao desiree buonasera sei stata adottata dalle marche ricordo bene si erica ormai è dieci anni che abito nelle marche io sono di Genova ma sono venuta a stare a Pioraco un paesino montano bellissimo in provincia di Macerata leva qual è il tuo segno lunare io sono del segno dei pesci la luna nel segno dei pesci e la ascendente scorpione sto inguaiata non ne ho la minima idea Anna Maria è già tanto che so che sono acquario e che ho la ascendente in bilancia perché l'ascendente me l'aveva calcolato della estrella e il segno delle cale lo sapevo sin dalla nascita ovviamente ma io di tutta la cosmologia astrologica so pochissimo non mi interesso di astrologia so quel tanto che basta solo perché è collegato alle reincarnazioni all'anime e via dicendo ma per il resto non ne so nulla secretaria tu che stai studiando potresti anche cercare il mio segno lunare così scopro anche quello perché la secretaria sta studiando astrologia così dice secondo me è sempre a raccogliarrici o più che ci hai fatto un bel video sul tredicesimo segno infatti mi ricordavo di averne parlato no ma non mi ricordavo proprio il nome ma io ho una memoria pessima per i nomi di tutto i nomi delle cose i nomi delle entità i nomi delle persone io ogni volta che vado a Genova e mi sento urlare ciao sveva da qualche parte mi giro e il mio saluto retorico è ciao bella ciao biondo perché non mi ricordo come si chiamano anche salvia rosmarino che io sappia infatti Erika la salvia si la salvia bianca la salvia europea non serve a niente la salvia bianca rosmarino fa ma molto più leggero rispetto alla salvia bianca al palo santo che invece sono più potenti me la sono persa devo recuperare voglio la sua opinione la mia HO per me non cambia nulla ecco brava mamma cerca il segno lunare secretaria ciao Diego ecco perché io non seguo le regole brava fai bene neanche io io sempre mangio quando ho fame dormo quando sono non me ne può fregare di meno ho l'orologio semplicemente per le convenzioni umane quando ho un appuntamento da qualche parte quando devo essere in un determinato posto perché lì sono costretta dagli eventi ma se no neanche l'orologio porto ciao Steffi buonasera vedi anche Oriana canta canta solo voi due madre e secretaria siete due blute persone non mi volete sentire cantare ecco un altro 24 gennaio mi pareva che anche tu dovevi essere acquario Diego non potevi scappare devi fare un video con Erika è vero Sveva sei preziosa e non dire più che sei anziana sei una giovincella con la pelle da pesca addirittura però è una pesca con le occhiaie una pesca panda è che non devo ridere perché se no mi vengono le rughe ma io me ne frego e rido lo stesso eccola lì la madre vedi che è una bluta persona la madre perché vi sta dicendo shhh perché non vuole che canto è malvagia boh mi provochi con la sigla ora vado su qualcuna a fumare la fortuna ne sta in soffitta il fumo va verso l'alto quindi non rompo le balle a nessuno e fumo quanto mi pare ma quando ci reincarniamo siamo noi a decidere in qualche in qualche nuovo corpo come funziona sta cosa non ho capito ma il corpo non ha nessuna importanza di là non c'è il problema dell'estetica per fortuna solo le menti limitate di qua ce l'hanno ci reincarniamo in determinate esistenze che hanno un contorno di altre anime che ci possono aiutare a fare le esperienze che volevamo fare non importa che corpo sia se l'anima di quella lì mi viene bene come mamma l'anima di quell'altra mi viene bene come migliore amica l'anima di quello lì mi viene bene come ex fidanzato dove ci siamo menati sono tutte esperienze che io dovevo fare mi reincarno in quel clan animico cioè in quel punto dove quelle anime si sono reincarnate non è una scelta del fisico anche perché sennò avrei avuto veramente dei gusti pessimi quando mi sono reincarnata se non c'è la possibilità di aprire finestre o porte come possiamo purificare in che senso non c'è non puoi aspetta non esiste una casa dove non puoi aprire finestre o porte mi sfugge qualcosa cioè ti sei fatta lanciare sulla testa un container saldato e vivi lì dentro da quando ti ci hanno buttato non ho capito non è possibile che non ci sia neanche una finestra o una porta dove vivi prego Cassandra purifichi con porte finestre chiuse poi la mattina dopo ma non la mattina dopo dopo che hai finito di purificare non c'è bisogno che aspetti fino alla mattina dopo una volta che il fumo si è dipanato bene in tutte le stanze puoi aprire va bene lo conosco sono di lì vicino ah si eri ecco allora se passi mi fai infischio io non ti dico del pacchepasso perché io non mi muovo mai sono senza macchina appunto sui monti con al net e quindi di qua io non mi sposto ma se passi mi fai infischio a meno di 10 minuti da Pioraco dove stai? Castella il mondo Fiuminata Sefro Seppio San Severino zone limitrofe ormai le conosco tutte dopo 10 anni grazie a me purtroppo ho perso la connessione ho sentito in ritardo e se io ungo la candela con miele e incido il nome e data di nascita di mia madre anche l'importante è che mentre lo fai pensi a quell'intento cioè pensi ad aiutarla nella ripresa post ospedaliera me lo sentivo che è riascendente in bilancia sei insimile a me in molte cose ma io l'ho scoperto da poco te l'ho detto me l'ha calcolato degli estreia perché se no io con l'astrologia non siamo mai stati molto legati non l'ho mai studiata anche perché per me è tutta una io dove ci sono calcoli numerici mi affascinano tanto ma tanto non ci arrivo se mi parli di cose storiche io mi ricordo anche quanti peli sotto le ascelle aveva il dio Giano in che anno ha fatto la prima popò Napoleone ma io più in là della tabellina del 7 che la so per una canzoncina anche qua per la felicità della madre 7 per 1 7 se non ho l'auto me ne vado a fette 7 per 2 14 il cartoncino lo taglio con le forbici più di lì con i numeri non vado non siamo amici tempo fa una signora che conosco mi fece un consulto tarologico e ridevo perché mi appaio nelle palline che ridono mica peraltro gli emoci e mentre parlava venne fuori che un'entità maschile anziana mi stava vicino può essere mai una cosa del genere non è che ci credo tanto ma alcune entità Anna Maria stanno intorno a noi è il termine vicino che fuor via la gente tende a a dire nonna mi sta vicino non mi sta vicino ma vicino non vuol dire niente non è che quando andate in giro per casa avete la fila degli antenati dietro questa è la coda del serpente che viene giù dal monte non stanno vicino sono intorno a voi sono rimasti legati e collegati a voi alla vostra anima cioè la loro anima è rimasta collegata alla vostra non è che sono vicino a volte c'è gente che mi manda la foto e mi dice vedi qualcuno vicino a me ma non è che il fantasma a te sta incollato vicino vicino cic tu cic e se fai il selfie attaccato a te che io lo vedo nella foto che ti sta vicino e il termine vicino è sbagliato perché fuor via proprio incidere sano un faccio oppure risano anche sì se utilizzi le terminologie o di tenka le frasi di tenka o le terminologie in latino puoi anche utilizzare quelle sulla candela sì la luna in pesci deve essere sognatrice da veggenza sensibilità io devo scoprire dove ho la luna adesso mi avete messo questa curiosità a parte la luna storta che quella ce l'ho spesso certo devi dirmi data e ora di nascita precisa in privato ma allora non c'è no problemi 29 gennaio 1975 e sono nata alle 22 e 010 di sera perché io dovevo essere rompiballe sin dall'inizio svevi ho trovato due piccoli alveari oggi a terra li ho raccolti che cosa ci posso fare mi dai un consiglio ma gli alveari io li uso solo per fare determinate polveri magiche per farci determinati riti o cose non è che hanno altre utilità anzi come diceva Adam giustamente quando ne parlavamo non vanno neanche tenuti troppo in casa perché smottano le vibrazioni della casa quindi se non sei capace a schermarli a rinchiuderli al meglio io ieri ci ho perso una giornata per schermarli in modo che non mi sbilanciassero le vibrazioni non ha neanche tanto senso tenerli ripeto a meno che non ci fai delle ritualistiche mirate non posso proprio aprire ma la porta di casa quando entri e esci la apri ma che vada dalla porta piuttosto che niente se no lava tutti gli ambienti con acqua e sale marino perché la fumigazione non serve a tanto se non puoi aprire e far uscire puoi lavare tutti gli ambienti con acqua e sale marino e puoi accendere una candela nera in una nottata di luna calante in una serata di luna calante lasciandola consumare fino alla fine è una sua carissima amica sì Erika detta ambrogia è quella santa donna che io metto a perdere per scarrozzarmi con la macchina quando devo andare da qualche parte perché io non ho la macchina appunto e quindi rompo le balle a lei ho un'altra domanda ogni tanto vado in una casa in montagna del mio ex marito dove tempo fa ho radunato foto dei nonni di mio suocero ed altri defunti e quando non accendo candeline oppure ceri di notte vede percepisco un pellegrinaggio di anime gentilmente dico loro di lasciarmi dormire in pace e tutto ritorna normale che ne pensi? può essere che ci siano un tot di anime che sono lì in giro magari sapendo che tu li puoi avvertire eccetera si fanno notare perché sperano che tu li pensi che tu li ricordi che tu gli accendi la candeline e via dicendo perché sono tutta energia che a loro arrivano poi è ovvio sono comunque persone educate anime educate se tu gli dici no guarda lasciatemi dormire i loro poracci se ne vanno però il tentativo è quello come incenso per la salute cosa mi consigli grazie scusa sono un po' preoccupata per mamma perché è molto soggetto ad andare sotto i ferri incensi per la salute normalmente si utilizza tanto l'eucalipto si utilizza il pino si utilizza il ginepro che sono degli aiuti sempre a livello vibrazionale per la salute per rilassare il sistema psichico magari appunto dopo un intervento cosa la lavanda incensi comunque relativamente blandi non cose estremamente potenti ah ecco casterra il mondo mi pareva io mi ho detto neanche 10 minuti le zone sono quelle non esiste cosa vabbè no aspetta che un incenso aiuti la guarigione così ad cazzo no non esiste però aiutano la vibrazione della richiesta se li accende insieme alla richiesta con la candela verde e via dicendo un po' no ho detto una cazzata sugli incensi Adam non lo batte nessuno ho che mancano due settimane e tacchiappo non è dove vivo l'ambiente di lavoro è enorme ma se apro la sera scatta l'allarme sicché niente porta finestre da aprire fino al mattino dopo ma c'è gente e allora te l'ho detto Mari lava i pavimenti con acqua e sale fino e se puoi accendi in luna calante una candela nera lì non hai bisogno di aprire nulla e comunque leva le negatività anche in quel modo se ti sve io il 30 di questo mese devo subire un intervento e sarò diversi giorni ricoverata mi devo purificare prima con cosa ma la purificazione fede una volta che hai tolto la negatività di dosso anche solo con acqua sale marino se vuoi puoi aggiungere al bagno se fai un bagno rosmarino all'oro anche il l'iperico li metti in un pentolino li fai bollire 2-3 minuti all'oro rosmarino iperico dovrebbero bastare sale marino puoi metterlo anche già lì anche un po' e li fai a bollire come fossero un tè bolle 2 minuti lo spegni aspetti che si raffredda filtri via le foglie le cose e l'acqua la tieni e la metti nella vasca poi ti fai anche lo scrub col sale marino e stai un po' a mollo in questo modo qua purifichi dentro e fuori e rivitalizzi le energie necessarie proprio per l'intervento per le situazioni di salute sono io ma attualmente vive lavoro ad Ancona spesso vengo giù però e te l'ho detto eri quando passi io anche ogni tanto vengo ad Ancona ma perché devo andare a torrette a fare dei controlli non io e il marito e quindi ogni tanto però ad Ancona ci sono cosa ne pensi del channeling non so se ho scritto giusto ho fatto un video Claudia sui channeler e sul channeling sì ci sono alcune persone medianiche noi ne abbiamo anche due in 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 congrega da me che utilizzano per andare a cercare determinati defunti o determinate situazioni utilizzano la tecnica del channeling tramite le loro guide tramite il loro portale personale però ecco non sono chiamate cioè loro non chiamano i defunti quindi non gli rovinano non chiamano niente sono loro a uscire in astrale e andare da loro però siccome è una cosa sfiancante ti distrugge a livello proprio energetico lo fanno solamente in casi estremi dove la situazione è gravissima non certo per dire alla nonna quanto ti manca ecco però quando invece fanno quelle cengellate io le chiamo così dove ti dicono che il contatto con nonna ti ha detto quanto ti amava quanto ti vuole bene tranquilla che ti protegge e quelle cose lì normalmente sono delle merite buffonate perché i defunti non parlano in quel modo e comunque siamo sempre lì medium changeling sono veramente pochi pochissimi al mondo quelli veri e la maggior parte di quelli veri che sono pochissimi tra di loro si conoscono e si riconoscono quasi tutti quindi ci andrei con i piedi di piombo inoltre lo dico sempre e lo continuo a dire in eterno ricordatevi che un medium qualsiasi medium che sia changeling o che sia medianico da ricezione o qualsiasi altro tipo di medianità che chiede dei soldi che si fa pagare per contattare nonna, zio, zio il vicino di casa il fruttivendolo l'amica del cuore e l'amichetto di quando andavamo all'asilo non sono veri medium perché un medium vero che ha a che fare davvero con l'entità non si farà mai pagare per fare quella cosa lì io non so le tabelline ma davvero e te l'ho detto io arrivo a quella del 7 e poi mi ricordo quella del 9 perché mi ricordo che ne aggiungo uno e ne levo una quella dell'8 non ci riuscirò mai a ricordarla mai ciao Gaia niente stasera mi si pianta la diretta guarderò la registrazione mi dispiace Engie batti 5 ma i numeri mi seguitano comunque se mi parli di aromaterapia quindi oli e profumi vari che vanno a stimolare i centri nervosi e possono portare dei benefici fisici ok se mi parli di incensi e quindi di fumigazioni per la salute non esiste no si io veramente in teoria parlavo vengono chiamati incensi in grani ma in realtà si fanno parte dell'aromaterapia c'hai anche ragione sono io che mi sono spiegata male perché il pino in grani l'eucalipto in grani si trovano però si fanno parte della sfera più che altro dell'aromaterapia buonanotte Nubia allora penso che li ridò la terra o lì dove li ho trovate si Ori se non li utilizzi per una cosa mirata è meglio che nemmeno li tieni trano io avevo letto che c'erano è quello che ti dicevo Angela perché alcuni io chiamo per esempio incensi in grani anche quello che non è incenso cioè le perle di pino le perle di i grani di eucalipto i grani di ginepro e via dicendo però in effetti non sono incensi veri per come intende Adam gli incensi ciao tizi anche io ho la luna in scorpione comunque sì ma io non so dove ho la luna non me l'hai detto la luna la luna non c'entrava niente va bene la pianto grazie tutti mi prendono per matte chiaramente non mi credono beh dai farsi credere in questo mondo è dura credimi credimi i segni di acqua portano la veggenza segno zodiacale inclusa ascendente e quanti segni di acqua si hanno nel tema astrale gine io ti voglio tanto bene ma parlane con francesca perché io con i temi astrali con l'astrologia proprio ve l'ho detto non ci capisco una mazza e ho provato due volte a studiarli ma c'ha davvero tanti di quegli arzigogoli che ho detto ci rinuncio già devo studiare tante cose del mio mi ci manca l'astrologia non ci capisco niente ma perché incontro delle persone che parlano sempre alle spalle ma che delusione devo andarmene sul cucuzzolo di una montagna è un fatto carmico no Anna Maria quelli non è un fatto carmico il fatto è che la gente mia nonna diceva la gente quando non sa inventa nel senso che la gente parlerà sempre di te di te di me di chiunque tu parti sempre dal presupposto che una persona che parla con te degli altri con gli altri parla di te l'unico modo per sopravvivere in mezzo alla razza umana di questo pianeta è battersene altamente le balle io dico sempre per me possono dire che sono una santa che sono una zoccola sono una donna non sono una santa non tentarmi non sono una santa non me ne può fregare di meno possono pensare quello che vogliono a me di quello che mi parlano loro alle spalle non me ne frega niente anzi mi fanno pena perché poverini hanno una vita talmente piatta da dover guardare la mia voglio dire se la loro vita fosse interessante non avrebbero il tempo di guardare quella degli altri che la loro vita nella negatività quando sarà finita i residui dove posso non posso toccarli con le mani li butto si si o li prendi con un pezzo di carta o meglio ancora con un guanto in lattice qualcosa e li butti tranquillamente via anche semplicemente nella spazzatura non ci sono necessità di interraggi o cose così per la candela di purificazione ho perso un colpo, l'una in vergine in vergine? strano perché almeno per le vergini che conosco che sono tutte molto puntigliose, molto precise io proprio non ho nulla a che vedere con la vergine io sono un disastro fatto persona non sono ordinata, non sono precisa non ho voglia di rilegare, ma manco i libri rileggo scrivo il libro e lo pubblico, nemmeno lo rileggo per vedere se ho fatto un errore hai detto che gli appunti non parlano così come parlano allora? come quando erano in vita Desiree i defunti parlano come parlavano da vivi mia nonna non verrebbe mai a dirmi quanto ti amo, quanto ti voglio bene ma io ti proteggo mia nonna verrebbe e mi direbbe qualche volta viene e mi dice ma quello è un altro discorso ancora con sta sigaretta stai? quando è che la butti? me ne frega la mazza di dirmi quanto ti amo quanto ti adoro come la salsa col pomodoro quelle frasi fatte sono inventate a meno che proprio non avevi la nonna che parlava a quel modo però è difficile anche da viva non è che la persona ti venga a dir quanto ti amo e quanto ti adoro di continuo stessa cosa vale per le guide c'è gente che dice il tuo angelo ti ama ma quando mai? ma quando mai un angelo un demone una qualsiasi guida ti amano che ce ne hanno pure per le palle di farti la guida ma devono non gliene può fregare di meno non ti amano tutto sto bisogno di amore non c'è la media di un castellano era una vera ci avevo acchiappato al 100% si infatti Giovanni perché poi mi sono rinfrescata la situazione tra l'altro dovevo andarci proprio anche per fare un video ma devo trovare gli eredi perché devo avere i permessi degli eredi per poter parlare di quella situazione di quel caso stava serena ecco prezzemolo è apparso ragazzi sto indietro di 110 messaggi non lo so quando ce la faccio a rispondermi ok qua parlate tra di voi vi amo quando parlate tra di voi allora non bisogna pensare ai segni paragonandoli alle persone che si conoscono perché le persone hanno una valanga di altri pianeti e di altri segni siamo tutti unici sì fra però alcuni segni hanno delle caratteristiche precise non per le persone in sé ma è proprio la caratteristica del segno e diciamo che e diciamo che boh normalmente io in vergine proprio non mi ci vedo niente però può essere eh ci capisco poco ecco appunto anche mia nonna defunta quando venne ci ha cazziati perché abbiamo fatto seccare delle piante che ha piantato lei tempo fa appunto autum è quello che dicevo prima io i defunti che ho incontrato e credimi che in 48 anni face to face ne ho incontrati una marea parlavano tranquillamente come le persone che incontro al mercato non mi apparivano con l'alone brillantinato dicendo quanto amo quella persona digli quanto mi manca che non è vero perché ai defunti non manca nessuno quindi ma guarda Dea prima parlavo di te perché è venuto fuori il discorso dell'ascendente ho detto io che sono ascendente bilancia l'ho scoperto quando mi aveva fatto Dea e estrella se no nemmeno lo sapevo allora aspetta che qua state parlando tra di voi che poi è la caratteristica del pianeta a caratterizzare il segno zodiacale io credo che dovrei essere stata sotto al pianeta topo con gli influssi del pianeta paguro durante la rotazione del pianeta bradipo io sono vergine ma non sono ordinato nel mio disordine sono ordinato non sono permaloso prezzè ne hai detta una giusta e quattro cacate no si di te nel senso che parlavamo dell'ascendente dell'astrologia ho detto che l'ascendente mio me l'avevi calcolato tu ecco la neo sister buonasera nel 2015 mi veniva insieme mia nonna morta nei primi anni 2000 davanti all'ascensore eravamo mi disse se volevo andare con lei e io dissi che era presto ancora me la ricordo non ho più dormito quella notte beh ma non credo che volesse ucciderti Erika forse voleva farti vedere la realtà di dove era perché in lucido poteva farti vedere parte dell'oltre Sveva ti devo salutare perché devo fare cose un saluto a tutti grazie Adam per esserci stato non preoccuparti anzi e si infatti The S3 era per quello perché me l'avevi calcolato te non ho sonno ho detto fammi vedere che sta succedendo te fischiavano le orecchie ammettilo buonasera Francesca no è vero non sono per malo io sono cuspida ad esempio nata nel giorno in cui termina la vergine ed inizia la bilancia e ho gli effetti di entrambi che fortuna ho ma t'ho perso ma infatti nemmeno a me hanno mai detto li amo eccetera anzi certe volte sono incazzati appunto non credo che vorresti ucciderti prezze prima o poi verrai qua e poi su cavoli tua una cosa strana che mi è capitata poco fa non mi andava la connessione sono su sono tornata giù con mamma e la connessione è tornata per me era nonna che volesse che stavo con mamma prima dell'operazione può essere se senti questa cosa molto spesso le nostre sensazioni hanno un fondo di verità quindi tutto può essere e nulla accade per caso lo dico sempre c'è un attimo di stasi riesco a stirarmi anche se quando si ferma tutta la maranda qua io non so mai se è il pc che è bloccato ma chi è prezzemolo è rosario detto rio in ralias perché era il pc che l'ha bloccato ma aspetta che riapro la situazione perché mi si è bloccata la chat mannaggia la cutrettola è la piccola piatta piatta è la piccola piattola prezzemolosa lei non riesco ad accedere al link d'invito ma non c'è un link d'invito Emma non capisco che link d'invito non ho invitato nessuno abbiamo perso tutti la connessione mi dà la bandierina è riarrivata a me aspetta perché a me è cascato proprio tutto devo riaprire la pc esatto desideria lui ha detto prezzemolo l'ho messo io conto di venire da te brava tu devi venire e niente il pc ce l'ha con me arrivo giuro che arrivo oh si è riaperto ok perché io da qua non vedo una fava mi da meglio fare richiesta ora ripartito ok ah no quella lì è la richiesta per partecipare in live se vuoi apparire proprio sul monitor faremo quella cosa noi noi faremo cose vedremo gente no gente non ne vediamo cioè si anche sempre gente qui si blocca tutto no ma a me mi si blocca il pc perché va citrato il telefonino no dal telefonino non mi si blocca niente tu non c'è di niente prezzemolo sono cose tra me ma figlia inutile inutile che fai con la manina così voglio la segretaria la dobbiamo tirare giù dai monti del tirolo la segretaria oggi ho ordinato sulla pagina l'incenso dell'ambra speriamo che mi piace a cosa serve non l'ho mai usato questo l'incenso di ambra non l'ho mai usato neanche io quindi sinceramente non saprei nemmeno che utilizzi possa avere non so se sia legato all'ambra pietra o meno perché l'ambra pietra ha determinate proprietà però non so se corrispondano al suo incenso la combinazione Adam è scappato lui era più pratico di me con gli incensi avevo visto il doppio senso per questo avevo messo la manina apriremo le porte pure la tua cioè apriamo la porta a Rosario bene molto bene buonissimo l'incenso all'ambra ecco io non lo conosco non l'ho mai usato ma forse perché io uso più miscele sempre esoteriche lo uso spesso pure io e anche Neroli a me rilassa sia collegato al fossile da ambra e non non l'ho mai utilizzato ma io non uso gli incensi per aromatizzare gli ambienti quindi se non hanno proprietà esoteriche ritualistiche normalmente non li uso gli tireremo i piedi esatto potremmo apparirgli una da una parte e una dall'altra mentre gli cantiamo qualche canzoncina sincronizzate così non dorme per due mesi mi vuoi e tu non mi fai andare a pescare ricci ti va bene che sto in montagna qua i ricci non ci sono comunque mi si blocca tutto non ho capito niente viene usato anche come ringraziamento sì so che in certe culture viene utilizzato anche come ringraziamento io ne uso altri ringraziamenti altre tipologie quindi quello non l'avrò mai utilizzato è uno di quelli che conosco per nome ma mi è oscuro come utilizzo immaginavo Sveva io invece non mi trovo col palo santo sta cosa che si spegne mi scoccia assai beh ci sono i coni che sono a base di briciole di palo santo che non si spengono ci sono i coni in polvere di palo santo che non si spengono in alcuni granuli all'interno c'è anche il palo santo cioè insomma il palo santo lo puoi usare anche non solo in bastoncino sì ma adesso non la ritrovo comunque i rumori intanto bisogna vedere non è detto che siano portati da grazie Francesca non è detto che siano portati da entità perché specialmente i mobili molto spesso hanno un sacco di scricchioli di assestamento e si sentono di continuo poi c'è la questione anche del piccolo popolo se vivi in posti vicino alla campagna a luoghi naturali può essere il piccolo popolo che zompetta per casa e fa casino fa rumori anche perché l'entità di fare grossi rumori non è che gliene frega niente è più una una questione dei film che si sentono i rumoroni dell'entità ma in realtà l'entità deve fare rumori che gliene frega qualcosa tra l'altro consumano un sacco di energia perché cosa per fare toc 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 non ha senso come si va nei sogni della gente andresti a far fare incubi a mezza Italia per seguitare non dico come l'altra mezza non Italia sul discorso male lingue soprattutto quando a me va bene qualcosa è come se qualcuno geloso e invidioso riuscisse a interferire come protezione metto ossidiana sale all'oro e mi faccio treccia con nastro rosso altro e soprattutto mi dicono che comunque di non parlare di me ma io sveva solo come te io parlo racconto me ne prego ma io uso la mia sana sacrosanta specchiatura che consiglio sempre di fare a tutti poi ho dei miei talismani ho una tormalina così qua a casa ma io sto quasi sempre a casa a meno che non devo andare per commissioni c'è di cosa che io non do confidenza mai a nessuno nel senso che io non ho vita sociale e se tu non hai vita sociale non dai neanche modo alla società di parlare di te a me non mi vedono mai a me mi vedono andare a prendermi il caffè al bar andare a fare colazione andare a comprarmi le sigarette andare a fare la spesa e rientro a casa non ho vita sociale tranne un'amica che appunto è quella che ogni tanto sbuca nei miei video Erika e con lei ho un po' di rapporto sociale ma se no non ne ho altri per cui qualsiasi persona può dire qualcosa di me se l'è inventata di sana pianta oppure è una cosa che ho detto tranquillamente io in qualche video in qualche cosa io racconto tutto perché non ho segreti io non ho nemmeno le password nei telefoni perché non me ne può fregare di meno io segreti non ne ho per nessuno non è una cosa che non faccio nulla di nascosto siccome si dice male non fare paura non avere quindi hanno poco da lì o inventano o dicono cose che io dico palesemente tranquillamente davanti a tutti non si toccano i ricci a mare le fate non vogliono ma è la punizione per la secretaria deve andare a raccogliere ricci in apnea come straordinario non retribuito perché non vuole sentire le mie canzoncine è malvagia e diglielo pungono poi si ho visto quasi quasi prendo quelli si quelli restano accesi sempre non creano problemi le fate al mare esistono si in estate col costumino da bagno ma ti si blocca temami la linea no 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 riesce alla normale la linea se sono pugni nei mobili ci può stare noi siamo casinisti le ninfie stanno al mare le ondine ma come ma lui non ha ancora capito cos'è il piccolo popolo e niente è un prezzemolo il piccolo popolo stanno anche al mare lo assumono i boschi piccolo popolo ragazzi è come dire razza umana se io ti dico un umano dell'asia un umano in africa un umano alto un umano basso un umano biondo un umano nero tu non mi vuoi dire ma ce stanno pure in africa ma è certo gli umani stanno da tutte le parti poi ogni umano ha le sue caratteristiche in base alla sottospecie del suo ceppo genetico piccolo popolo è la stessa cosa è una razza infinita ma poi ci sono le sottospecie ci sono le fate gli elfi i folletti le ondine le ninfe le nereidi una marea che non finisce più di sotto razze non lo vorrei solo imparare insegnami d'estate in ferie vanno al mare esatto e piccolo popolo che esseri sono come sono fanno dispetti fanno sparire cose sono veloci si a volte fanno sparire cose fanno dispetti per lo più i folletti e gli ignomi sono quelli che fanno i dispetti comunque come sono dipende dalla razza ci sono mille e mille razze come dicevo prima quindi non c'è una forma unica i rappresentanti del piccolo popolo vivono dove c'è natura elementi naturali quindi si i fatti mi confunivo qualcuno vada a dargli una cappocciata secca da parte mia apprezzemolo cos'è la specchiatura guarda è un modo di proteggersi ho fatto un video sul mio canale youtube che si chiama proprio la specchiatura dove insegno come farsela perché te la devi fare da sola e è una protezione contro tutto quello che ti possono mandare altri umani altri vivi io adoro candele ma mi dispiace accenderle ora sto iniziando ogni tanto accendo palo santo salvia coni pure lì ho incensi e bastoncino e grani non mi manca nulla solo le pietre non ho una cosa che voglio prendere è la genesa sì lì poi ognuno vede di per sé cosa lo attira di più cosa lo chiama di più cosa preferisce usare via dicendo ognuno di noi è diverso non vi lamentate poi quando vi nascondono le cose dicelo 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 mia mamma ha sognato mia cugina parlavano di un medico la mattina dopo mia cugina l'ha chiamata per chiederle il contatto di un dottore quello non è veggenza è telepatia involontaria probabilmente la cugina ha pensato domani chiamo e chiedo e tua mamma ha recepito telepaticamente quel pensiero e lo ha trasformato in sogno ma quali fatti quelli sono i fauni ma te gli stai ancora a spiegare cose c'è proprio un video dedicato dove la spiega sì l'ho fatto apposta al video sulla specchiatura mi dissocio te l'ho detto che è una causa persa prezzemolo le fate palermitane sì beh che c'era il film le fate ignoranti peraltro bellissimo film uno dei pochi film italiani che mi è davvero piaciuto tanto ci saranno bene anche le fate palermitane su questo proprio non ci piove madre ta stava ricennù ok ora cominciano con il sumero antico mescolato con l'arcaico winx l'arancina e la mia io gli voglio tanto bene a quel coso che si mischia per le parti e non capisce un belino si dice a Genova perché se no altro che i piedi di notte in astrale gli andavo a tirare gli sganassoni li tiravo in astrale grazie anche a te per le spiegazioni pensavo che stavano solo nei boschi mi rifiuto di leggere in dialetto non ci riesco gli avevo messo i biscottini e poi hanno smesso di farmi sparire robe però non li hanno mica presi basta il pensiero sicuro più snelli di me sai cosa fra non è che non li hanno presi probabilmente non hai controllato bene loro hanno delle bocche che sono microscopiche quindi per loro dare un morso al biscottino equivale al morso di una formica se tu li guardi attentamente quando li metti ci fai proprio una foto poi li metti lì domani vedrai che qualche puntino qua e là è tutto sgretolato ogni oggetto ha energia sentono le energie dedicate all'oggetto a casa mia sono diventati esigenti ogni sera vogliono dolcetti e la buonanotte oppure mi smontano la cucina vedi a dare i vizi gli dai in dito se pigliano il braccio come i figli dobbiamo fare una diretta sul piccolo popolo io da mo che te lo dico che dobbiamo fare una diretta più snelli di me grazie ora ho capito scusa se insisto visto che c'è la madre sono proprio curiosa perché i nomi delle mie genese sono proprio strani quindi volevo sapere da dove cavolo li hanno tirati fuori sai Mari noi molte volte pensiamo solamente al nostro piccolissimo microscopico granulare cerchio di conoscenza ma i nomi per esempio non ci sono solo quelli italiani non ci sono solo quelli europei non ci sono solo quelli del pianeta terra ci sono altri pianeti che hanno altri nomi nell'oltre ci sono ancora altri nomi i nomi sono infiniti non ci dobbiamo basare solo sulle quattro conoscenze che abbiamo noi di quattro nomi conosciuti qui ciao Silvia arrivo ora perché mi sono addormentata come un fungo vedrò la puntata in questi giorni ma in diretta è un'altra cosa ti preoccupare comunque la diretta rimane sempre online quindi non si perde se vi avevi visto altri vampiri poi a distanza di quel video che hai fatto dove ne parlavi ma di persona ne ho conosciuti solo un paio di Jasmine mi sono strazzata col fumo di Jasmine ne avevo parlato appunto in quel video di testimonianze di una vita e dell'altro devo ancora parlarne ma ne parlerò più avanti perché voglio inserirlo in uno dei libri quell'esperienza e quindi poi ne parlerò magari il folletto domestico buonanotte Dania amor forse mi sono persa la tua risposta ma chiedevo prima se i suoni di sonorità molto elevata come un fischio di ultrasuono possono avere a che fare qualcosa con il paranormale oppure una cosa fisica nel caso avevi già risposto dopo riascolto ma dipende Autun dipende da un sacco di fattori cioè il sentire una volta un tipo di suono è difficile dire se possa essere paranormale non paranormale se mi chiedi se c'è la possibilità che esistano dei suoni paranormali che possono sembrare simili a ultrasuoni e vi dice non molto acuti eccetera sì assolutamente sì possono esistere non però non posso dirti se un determinato suono che tu hai sentito poteva essere paranormale o meno perché non ho le basi per analizzare una cosa così il domovoy ce l'ho in camera ce l'ho in cameretta il domovoy in camera mia quando lì c'erano bricioline pensavo i gatti di solito loro smanciucchiano non è che si portano via il biscotto o la caramella o che la smanciucchiano lì fanno banchetto e poi se ne vanno pure io li voglio per casa gli darò tante cose li tratterò bene beh non vanno in tutte le case dipende loro finiscono a caso a volte in certe case però devono essere sempre case che hanno un ambiente naturale intorno in città non vengono quasi mai buonanotte cinzia anche in sicilia c'è un nome siciliano ma adesso mi sfugge si poi alla fine è sempre lo stesso li chiamano in vari modi ma la creatura è sempre la stessa a me è arrivato dal nulla Iralia credo sia il nome della mia anima anche se ho fatto la spiegazione nel video che facesti tu una volta mi risultava diverso è come una sensazione Iralia mi appartiene proprio come se fosse una cosa che viaggia con me da sempre potrebbe essere il nome di una delle tue reincarnazioni magari molto antica che ti è rimasta impressa nella memoria animica è su youtube se cerchi su youtube sul mio canale trovi proprio dove parlo dei vampiri e racconto anche alcune alcuni incontri nella playlist testimonianze di una vita buonanotte 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 stella cioè tipo una persona che ci ha vissuto in passato ah stai parlando ok qui parlate tra di voi in città in città al massimo c'è un guardiano sì ce ne sono pochi diciamo non è che non ci sono però c'è poca roba rispetto agli ambienti naturali ho capito ultimamente mi capita di sentire questi fischi nell'orecchio proprio a volte si tappa pure ma forse dove fare una visita medica beh guarda ad Aliona per esempio una delle sue guide il suo suggeritore aveva il vizio di soffiargli nell'orecchio e gli mandava aria gelida che gli si congelava l'orecchio quindi prova invece a fare due o tre foto vicino al tuo orecchio nel momento in cui lo senti o senti tappato magari becchi il suggeritore quello può essere può succedere che lo becchi se è lui che fa sti casini è un dolcetto al piccolo popolo che mi mangio io oggi edgy io sto nel paese ma dovreste tutta natura non vogliono loro questo è anche io metto sempre biscotti e noci sbucciate e anche piccoli brillantini oggetti luccicanti ma non è mai mancato niente né mangiato nulla vuol dire che non ci sono sarà una domanda stupida ma io adoro da sempre questo popolo beh non ci sono sempre e in tutte le case quindi a volte vengono per un periodo poi vanno via poi possono tornare a volte non ci sono proprio certo non è che stanno in tutte le case puoi puoi sempre fare offerte nella natura sì infatti avevi fatto un video sul nome dell'anima sì è sul mio canale youtube anche quello c'è se non ricordo male segretaria ce l'ho un video sul nome dell'anima vero mi sembra di sì ma non ci si può parlare mangiano solo e ma loro non parlano la nostra lingua loro hanno un modo di parlare completamente differente tra di loro non interagiscono con gli umani ecco vedi se l'hai ricordato Angie voglio cambiarmi il nome legalmente in Iralia sì una volta maggiorenne puoi andare a chiederlo all'anagrafe ma devi avere una motivazione valida per cui non ti piaccia il tuo nome che in effetti comunque ce l'hai puoi anche farlo di chiedere con la motivazione valida io al massimo in caso ho trovato le tarmi io a volte sento i grilli hai voglia a dirlo all'ottorino è più credibile nel fischio allora Diego lascia sta io per anni sentivo fr 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 appunto tipo grilli e sono stata convinta per più di vent'anni di avere l'acufene poi ho scoperto dopo anni anni e anni che il mio suggeritore è una cicala che peraltro parla così fortunatissima non capisco una mazza di quello che mi dice ma mi chiamo come una collana appunto hai l'attenuante farsi vedere non è sempre possibile poi diventerebbe troppo scomodo per loro sono differenti per natura esatto grazie segretaria ti abbuono i ricci anche questa volta niente io adoro grey vai vai che l'alieno ti è andata meglio io solo a fine 12 anni ho visto il piccolo popolo poi basta la piccola una fata e a 12 anni un gnomo in un bosco o parco a milano poi più niente un po' ci credo ancora che esistano peccato non vederli più a volte si perde un po' l'abitudine proprio a metterli a fuoco e un po' anche perché dei bambini si fidano decisamente di più anche a farsi vedere rispetto che non dagli adulti umani oggettivamente non mi farei vedere neanche io dagli umani se potesse io soffro di acufene dopo mille esami non sanno da cosa mi viene quindi comincia ad indagare che non sia acufene esistono sempre anche se non li vedi più certo assolutamente non so se riesco no qua non ci riesco ci contava risparmiare qualche riccio l'essere umano è l'animale più crudele al mondo in effetti si offende la razza animale quando si dà dell'animale a un essere umano si gli animali sono molto più umani degli esseri umani oltre che più puliti più civili e tanti altri più dopo il cuoca il cuoca è l'animaletto più bastardo che si sta sulla faccia della terra dai esatto solo esseri però il cuoca potrebbe diventare umano è arrivato allo stesso grado di bastardaggine prima che chiudi la canzoncina di Renzi per la gioia di tutti la ripropongo simpatica e carina è una bambolina oh Renzi non si direbbe in giro che è un papà vampiro oh Renzi lo sguardo è sempre acuto come mamma lupo oh Renzi e che se l'è sincera a volte fa paura perché Renzi è una strega molto dolce e deliziosa sai ma se si arrabbia allora sono guai va bene vi risparmio colpa di Antonella io sono innocente l'ha voluta lei grazie non ci avevo pensato al suggeritore cercherò di fare fatto assolutamente certo che se lui anche a me è andata bene ma guarda che io non so chi seleziona ai suggeritori ma ne azzeccassero uno via ma seriamente come fa il cuoco a lanciare la sua prola infatti cioè è fetente come pochi parlando di cose strambe la mia gattina è di 5 mesi ha la mania di pucciare gli oggetti palline carta nell'acqua e poi le porta in cielo e le lascia nell'acqua il mio gatto di 6 mesi e mezzo fa la stessa cosa salciccia ci sono gatti che odiano l'acqua e poi ci sono loro io ho zampette nere dovunque puliamo la cucina puliamo il piano cottura puliamo tutto ci giriamo a bere un bicchiere d'acqua ci rigiriamo ci sono zampette nere dovunque perché lo zampettatore seriale bagna le zampette e poi gira per casa altro che la pantera rosa cos'è il cuoca sappi che abbiamo cantato insieme brava Mari sei dei nostri grazie Anto ma chi mi ha detto di cantare Antonella Mesolella me l'ha chiesto lei ma col sorriso solo con la foto si può capire che è il suggeritore allora non è così semplice non è che ti fai una foto e appare il suggeritore ma in certe circostanze quando abbiamo delle sensazioni diverse vicino a uno dei due orecchi possiamo provare provare a fare delle foto e a vedere se l'immagine del suggeritore a volte perché quando li sentiamo con le sensazioni diverse vuol dire che in quel momento sono tanto energetici e quindi possono essere anche beccati in qualche foto però ripeto non è una cosa sicura è solo un tentativo io ci ho messo 30 anni per capire qual era il mio io ho anche cantato ecco un'altra che dei nostri perdonatemi Antonella potevi optare su una canzone di Nino D'Angelo perché tu pensi che io non le so tu scende prima mattina puoi fare ginnastica ad alta voce lo stereo ti piace la musica e ti fa sempre più bello ogni giorno che passa tu guarda che te la canto tutta chiara quel che se la fa comunque guardato nello specchio c'era una figura tipo la morte ma vestita di bianco credo di aver abbandonato 4 anni di vita in un secondo a me ste robe fanno paura ma magari era un'entità che poverina passava di lì gli specchi sono a volte finestre quindi ci fanno vedere l'oltre però considera che il bianco è proprio il colore della morte la morte non è nera è bianca il colore della morte è il bianco non è il nero canta i cartoni animati è lo spank beh guarda la so è lo spank e la so ma non era tanto nelle mie corde io ero più per i robot per le di cartoni animati diciamo di non robot o soltanto giusto le di oscar o ho guardato anche candy anche se era un po' una palla però i cartoni invece pucciosi con i cosini carucci tipo memole tipo spank li ho guardati ma don ciac castor non erano cose che mi piacessero molto io ero più per dai tantrette becca men e varie ed eventuali simili mi sfidi anche quella la so non c'è una maglietta una faccia acqua e sapone ma fate innamorare la tua semplicità ma tu non mi dai retta dici casi guaglione e non c'ava ancora l'età fa l'amor tu quindici anni ormai le so tutte è inutile che ci provi e siamo in tre bravissime noi esatto io ricordavo a suo Lorenzo una strega e allora ti ho rinfrescato la memoria vedi come no le sai tutte esatto io le so tutte come Nino D'Angelo no dai il Nino nazionale sono bellissime le canzoni di Nino non si può dire di no a Nino aiuto io riesco Duncan buonasera mamma di bianco protegge e nero difende si esatto però ha entrambi i colori vai con Lady Oscar ma guarda sinceramente sono sincera la canzone dei Cavalieri del Re di Lady Oscar non mi è mai piaciuta con quello Lady 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 Oscar tutti fanno festa fanno passitura proprio pallosa quella nuova la versione remake del fine anni 90 fa ancora più cacare al massimo ti posso cantare Barawa Barawa enaketus daite Barawa Barawa unuket utukete non mi ricordo l'ultima parola che è la versione giapponese che però è più bella non lo so no quella lì è la versione più moderna credo che io non conosco all'epoca mia era hello Spank il mio papà hello Spank ha preso il mare dolce Spank mi sento giù non lasciarmi anche tu che mica una sfiga pure quella ma non mi piaceva tanto poteva passare pure in un altro specchio comunque ora che mi hai detto che la morte è bianca faccio sbattare lo specchio povero io poi che amo gli specchi cantami Besame Mucho besame besame mucho come se ieri stanoce un'ultima ves besame besame mucho eh pensi che non la so vuoi detto che non mi batte nessuno io so canzoni che non si ricorda nemmeno più chi le ha scritte di averle scritte no poverina sabato mi è successo una serie di coincidenze ho trovato a lavoro in un posto pubblico un sasso colorato c'ero solo io lì c'era disegnato un cagnolino lo stesso giorno dovevo andare a portare il cane da delle educatrici e lì trovai un altro sasso con un cagnolino poi più avanti sopra la tavola un sassone grande tutto colorato e scritto con il benvenuto che fosse un segno della presenza della mia cagnolina defunta all'aprile sai che stavo pensando Danny la stessa cosa probabilmente era contenta della situazione che stavi facendo adesso del bene che stavi facendo adesso e ti ha voluto far capire che era lì vicino a te siccome appunto le coincidenze non esistono solo solo del taglio di capelli a cupola e parrino Candy è una figata che ha rinunciato all'eredità milionaria ha una sfigata infatti Candy è pirla ma pirla ma mica era più pirla Annie perché Annie era veramente tonta era l'apoteosi della tontità però anche Candy Bem un mito arriva Bem nemico del mal che in bocca ti è mille pugnal Bem mi piaceva tantissimo ogni tanto li riguardo ancora adesso su Youtube fermatela ma sono loro che me le chiedono mi vogliono sfidare se le conosco o no io l'ho detto fino all'anno 2000 le conosco tutte più in su quindi dal 2001 in poi no conosco solo giusto forse Watch You Worry di Johnny Scandal e mi pare ah cosa occidentali scarma perché era carina e l'esercito del selfie non ne conosco altri dal 2001 in poi ma antecedenti al 2000 persino quelle con i tam-tam ai tempi dei Neandertal conosco guarda il lampo che è laggiù attraverso il cielo blu le di Oscar le di Oscar cioè quella vera è quella più moderna non chiedete le più canzoni sono i cavalieri dello Zodiac sono nomi importanti sono grandi forti roi tutti decisi a vincere ma solo uno alla fine potrà trion faro allora sei proprio forte da notare come si cava nella parte quando canta certo perché io canto con pathos e mi devi vedere per casa quando canto buonanotte Giovanni Giorgio invece se la spazzava vabbè Giorgio non aveva le idee chiare era un po' vacca però andiamo a parlare di Heidi che butta da un monte Clara ecco Heidi era un altro cartone che proprio non mi piaceva ma manco per scherzo ma mica sembra Sarabanda sai che quando c'era Sarabanda guardavo ancora la tv all'epoca le cantavo e le azzeccavo tutte telefono all'uomo gatto è un po' che non lo sento l'uomo gatto Giorgio si è fatto una cattiva fama perché si è scappato a Londra era troppo chiacchierata a Sydney è vero vado a nanna accompagnata da dolce notte buonanotte Mari il prossimo che la sprona a cantare viene a prendere risce con me con corso di colpa ma a voi piaceva la pe maia no mi piaceva la pe maga maia era brutta disegnata male con quel crachino di Willy non mi piaceva per niente la pe maga mi piaceva apro la tua diretta e mi becco tutto il repertorio sei la numero uno non è colpa mia mi hanno instigato l'oro ragazzi mi sto divertendo un sacco ecco prova a fargli aprire le danze a loro ecco Serena ne ho una gli occhi di gatto tre sorelle bellissime no tre ragazze bellissime tre sorelle furbissime sono tre ladri bilissime molto svegliagilissime con astuzia e perizia ed unendo sembra un poco di furbizia tornando seri ok torno seria ma la colpa non è mia comunque sveva se demoni e angeli defunti non ci aiutano chi ci aiuta noi umani che siamo la feccia dell'universo siamo proprio senza speranza esatto non ci aiuta nessuno come nella vita di tutti i giorni nella vita di tutti i giorni non ti aiuta nessuno te devi tirare su le manicucce e fare tutto da sola finché hai la fortuna di avere mamma papà eccetera qualcuno ti aiuta poi gliene frega niente a nessuno nella vita dell'oltre è uguale ti devi arrangiare da sola le guide hanno il compito di guidarti non di aiutarti sono due cose diverse di Arsenio Lupenna a me piaceva la prima planet o quella in inglese planet o planet o you don't marry you don't snack at home we don't take you we don't non me la ricordo più you don't take you in sun comunque la lera bellissima quella in italiano insomma mi hanno un pochettino ah forse un po' carina di Lupenna in italiano era quella e non me la ricordo dall'inizio comunque Lupen Lupen quella lì e non ci sei andata dove dove mi si blocca tutto e questo è il nome del trio compatto Judith che si sposa con papà gamba lunga pure a rivista esatto che era bruttaforte comunque Judith l'hanno disegnata veramente luega si dice a Genova che vuol dire cessa buonanotte Francesca mi andate a dormire e fate gli incubi io amavo Heidi e anche la Pemaga la Pemaga piaceva anche a me Heidi no non mi è mai piaciuta le guide aiutano supportano guidare non devono aiutarci come Croce Rossini si appunto non è un aiutare è un guidare che è diverso ci spingono verso il percorso che noi dobbiamo fare ma la gente pensa che aiuto sia un'altra cosa Ano va già Ano mi preoccupa in quel disegno ma va vado a raccogliere che isci ma Carletto è il principe dei mostri che paura mi fa Carletto l'uomo lupo Frank e Dracula lupo Frank e Dracula luna piena lassù e l'uomo lupo un là ti dico solo che è saltata la corrente pensa come stanno messi adesso le nostre guida a vederci così le mie ci sono abituate a fare finta di non conoscervi bella Magica Amy mi piaceva perché è uscita subito dopo Crimmy e quindi era nel filone delle maghette c'è stato prima Evelyn poi Crimmy e poi Amy lo strano braccialetto che indossa sempre me è il dono di un folletto che è sempre accanto a lei non sei l'unica fidati secondo me non mi sopportano più con tutte le volte che tu erco dappertutto tu sei un caso disperato Prezzi la mia guida è Sailor Mercury la mia più Sailor Mars non Sailor Mars quella di Marte Sailor Mars è la Sailor della barretta Mars al cioccolato le guide di Sveva in questo momento si saranno date all'alcol esatto ma sto compito di guida cosa comporta perché io una volta ho chiesto al mio demone guardiano di dirmi qual è il mio compito in questa vita ma non mi hanno dato una risposta come al solito beh non è che tutti hanno dei compiti in queste vite alcuni vengono qua per fare la supporto ai compiti delle vite degli altri non siamo tutti che è quello che si dicevano che è quello del Lupin con la giacca blu in realtà Fujiko barra Margot sposa Lupin e Lupin si leva finalmente la sua maschera perché quella che ha sempre mostrato non era la sua vera faccia e la fa vedere solo a lei proprio come cosa di fiducia nei confronti della moglie quindi alla fine ce la fa chi lo sa che faccia ah chissà chi è quella lì è quella la serie con la giacca rosa che c'era il waltzer però mi piaceva poco quella lì col waltzer che magie che magie tu sai fare quando vuoi altro che incubi stanotte sognerò Nino D'Angelo che pesca ricci meno male che ho tolto la metistra dal cucino e mentre Nino pesca i ricci con la bacchetta magica di Sailor Moon grida con l'attacco del sole vincerò energia attacco solare Carletto mi piace era simpatico Carletto brava così lo vedo ti ignorano quella è un incubo a me Duncan ma se vuoi ti posso cantare anche i The Flapper di Guns non ti preoccupare l'Europ il mio amore ozzi Alice Evelyn è più vecchia a ori di di crimi come grafica era uscita prima Evelyn senti mami che ci dici dell'indagine di ieri che sto ancora finendo devo ancora finire di analizzare tutto l'EVP ma lì sfrutterò sicuramente la matre che ora non appare più perché secondo me si è addormentata come al solito ma sfrutterò la matre per quanto riguarda il castello della contessa purtroppo sono riuscita ad andare solo nella proprietà ma il castello è chiuso perché si vede che ha risulto danni all'epoca del terremoto e ancora non hanno rieperto nel museo né niente quindi non sono riuscita ad arrivare nemmeno alla tomba ma sto spezzettando e sistemando tutto il video ho messo il video integrale tutto intero di tutta l'indagine su youtube già ieri e ora devo fare poi tutte le analisi di rito del caso e poi mettere i vari pezzi è lunga ancora non una volta è scritto che il pepe è un potenziatore di rituali se lo metto in bocca amplifica anche le mie parole neri ti ho formule pensavo avesse la stessa utilità del sale nella lingua quando si deve parlare in casa si anche è un potenziatore di tutto quindi anche degli incantesimi quindi si se hai il fegato e la voglia di metterti del pepe sulla lingua o sotto la lingua o comunque in bocca dovrebbe potenziare si tecnicamente quindi possiamo essere solo di supporto per gli altri beh è comunque un compito si non è che possiamo essere solo di supporto a volte siamo dei supporti a volte siamo noi ad avere il compito principale è un giro quello lì a volte siamo sia l'uno che l'altro anche pollon mi canti pollon siamo diventati il giubbopsa richiesta sulla cima dell'olimpo c'è una magica città gli abitanti dell'olimpo sono re e divinità poi c'è una bambina che ancora non è è graziosa e birichina pollon il suo nome Dio il mito beh Dio James Dio di nome di fatto quella che però amo di più di James Dio è quella che ha fatto insieme a Malmsteen quella secondo me è uno dei top delle sue canzoni in assoluto ma dove siete andate ma chi chi se n'è andato se non canta Dio non voglio ascoltare ma con la voce di James Dio non mi vengono abbi pietà fammi cantare qualcosa di più semplice e guarda ce n'erano tanti tanti soprattutto nell'indagine dove ho messo gli incensi eccetera è venuto fuori di tutto però voglio un attimo ridimensionare la cosa e farci il video sopra c'è da dire che speravo di beccare o il conte o la contessa più che altro il conte perché è dall'epoca della sua morte che si narra giri da quelle parti e invece non l'ho incrociato ma tanto lì ci torno prima o poi ci mancava la polverina bianca che rende felice sembra talcoma non è serve a darti l'allegria e i vampiri energetici sono un problema perché alcuni sono anche involontari quindi non lo sanno nemmeno loro di esserlo la protezione migliore contro i vampiri energetici è sempre l'asciungite a prescindere portare un'asciungite in tasca eccetera anche se non le scovi se hai un'asciungite sei comunque protetta e magari imparare quando sei in ambienti molto affollati o quando sei vicino a qualche persona che ti dà proprio la sensazione che ti scarichi imparare a farti una schermatura ma che è quell'uomo dietro di te appena apparso chi è apparso dietro di me non lo so non ho visto nessuno io dopo riguardo il video per intero è apparso qualcuno può essere perché qua c'è un via vai quindi può essere non l'ho visto ero intenta a leggere dopo riguardo il video questo è due ore e un quarto quasi quindi verso la fine anche perché tra un po' stacco non c'ho più voce con te canzoni mi avete fatto cantare io e tu che grado di parentela avevamo nelle altre vite non ne ho la più pallida idea finora non l'ho mai visto nelle mie reincarnazioni sui doveri dell'anima mi pare sulle guide ho fatto proprio il video sulle guide sui vari compiti eccetera non ricordo dove ne ho parlato ne ho parlato ma non mi ricordo dove nel caso prendo un appunto eventualmente riprendo l'argomento anche perché non mi ricordo in che video ne ho parlato ma ne ho parlato dei compiti che veniamo a fare qua io e tu e tu qui eravamo ancora questo diretto non ce riesco ridi cosa ridi è vero non ce la posso fare cugini cugini fratelli sicuro che si è andato oltre il conte ma può essere la contessa è mancata in età anziana nel 77 mi pare mancata ma era già un anzianotta forte e il conte si diceva che appariva quando ancora la contessa era in vita quindi può anche essere che dopo che la contessa si è ripartita anche lui non si è più poi tornato devo indagare meglio su quel discorso su quella storia ora nonna ce lo dice tra l'altro mi è uscito mamma ma ho ricorretto con nonna non dirmelo ti prego no ti supprimevo nella culla beh il quarzo tormalinato insomma contro i vampiri energetici serve a poco ci vogliono minerali che abbiano una frequenza similmagnetica o assorbimagnetismo quindi sciungite matite magnetite la tormalina e il quarzo hanno poco a che vedere con i vampiri energetici io sono stata male in un ristorante purtroppo non lo fanno nemmeno in modo conscio e si infatti alcuni sono involontari tra te e la finestra allora da sta parte non lo so dopo riguardo il video comunque interessante sta cosa non me ne sono proprio accorta perché leggo io vedi io uso il pc perché se no non leggo e sono intenta sempre a leggere da sto lato dove ci sono le scritte quindi non guardo il video mentre lo registro poi me lo riguardo se mai dopo ora poi me lo guardo appena lo carico buonanotte fra grazie per le risate e per la svendita compagnia di sempre ciao Esther ciao Angie Fede Prezzemolo tutti tutti a dare la buonanotte alla mia la segretaria non mi consumate la segretaria anche il tuo video con tuo figlio sui doppelganger era molto interessante e beh i doppelganger ne ho parlato perché molti seguono il filone ideologico che se vedi il tuo doppelganger c'è un pericolo c'è qualcosa vuol dire che lui vuole prendere il tuo posto e mille mille cose che sono invece in realtà delle invenzioni cinematografiche poi comunque lui ogni tanto i suoi i suoi doppi perché c'era più di uno li vede li incontra e quindi abbiamo fatto anche un po' di spiegazione sui doppelganger vado anche io buonanotte ragazzi ma tra poco me ne vado pure io comunque di che contessa parli la contessa Gariboldi la contessa del castello di Lanciano non mi ricordo il cognome sono andata ieri in indagine proprio al castello di Lanciano sì mi pare ora quel cognome io ce l'ho detto c'ho un deficit con i nomi e con i cognomi che se non li leggo ottantordici volte non me ne ricordo sì si scrive così Angela asciungite con sh se trovi il video sui compiti dell'anima me lo mandi sì se mi ricordo qual è perché su 1040 video amor io non mi ricordo mai dove ho parlato di una cosa ho parlato dell'altra vedrò di cercare la sua mazzon se la trovo anche se comunque cerco sempre di passarmi il palo santo sul corpo comunque verso la testa sì ma anche quello con i vampiri energetici non c'entra niente Engie quello è per la negatività i vampiri energetici succhiano la tua energia non c'entra niente sono due cose completamente diverse notte ori sì sì lei sicuro è solo che sono io che sono imbranata con i nomi ragazzi buonanotte eravate ancora 30 ma è due ore e mezza che parlo e che canto pure devo comprarmi uno di quei microfonini wifi così faccio anche la scenetta così mi odiate del tutto è bruttissimo Sergio Campotone vampiro energetico assolutamente ti senti proprio succhiare ti senti che perdi le forze le energie la concentrazione tutto notte desiree ragassuoli stacco devo scaricarlo sul pc poi devo caricarlo su youtube ci mette tutta la notte stefi buonanotte erica buonanotte grazie a te e grazie a tutti per esserci stati Duncan buonanotte grazie anche a te e poi organizzeremo di nuovo qualche live ne facciamo una sul piccolo popolo con Dea perché la chiappo poi il 30 ho la live con Adam poi devo ancora organizzare la live con Gabriele d'annunzio che ci eravamo accordati ma poi non siamo riusciti a organizzare ci devo riacchiapparlo buonanotte Emma insomma ci sarà ancora del movimento anche nelle live si si anche con te Duncan ha ancora un'altra live out un buonanotte facciamo un po' di movimento le movimentiamo un po' anche per fare qualcosa di diverso Alessandra buonanotte ciao Lady Ghost Lady Sadako Lady Nassrino comunque salutano poi me menano secondo me quello lì è apparso non devo andare a vedere quello che è apparso ma secondo me è apparso perché non poteva più di sentirmi cantare notte Steffi grazie a te buonanotte Cassandra ci sta anche un po' di risate dai insieme al tutto il riso fa buon sangue e aumenta le energie e le vibrazioni ciao ciao ciao